La lunga marcia della Chiesa verso la realtà mafiosa, convertitevi, è stato il tema della tavola rotonda sulla lettera dei Vescovi di Sicilia, organizzata dalla Confraternita di San Giuseppe nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Bagheria. Nel corso dell'incontro hanno relazionato lo storico della Chiesa Don Francesco Michele Stabile, il quale ha tracciato un escursus sulla mafia dal XIX secolo fino ai giorni nostri, citando l'impegno del cardinale Salvatore Pappalardo, che fu il primo a parlare di mafia come struttura di peccato. Quindi è intervenuto Don Cosimo Scordato, docente presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista, che ha proposto un percorso penitenziale da parte dei mafiosi, i quali dovrebbero denunciare pubblicamente il loro agire, essere pronti a cambiare vita e riparare quanto ha recato di male alla comunità, ripristinando la sorta di prassi penitenziale dei primi secoli della cristianità. Il professore Nino Morreale, già docente nei dicei, citando il poeta Ignazio Buttitta, ha detto che un tempo mafia e chiesa si sono stretti la mano e quest'ultima si è resa conto solo dopo tanto tempo della gravità dell'azione criminale della consorteria. Per il teologo Don Rosario Giuè, tutti dobbiamo convertirci e come chiesa essere credibili in tutte le nostre azioni. Infine, l'arciprete Don Giovanni Lamendola, riconoscendo la fragilità dei preti di Bagheria, ha ribadito che si vogliono bene e sono orgogliosi di operare per questa città. Vivo di cominciare a sistematizzare una pastorale che non solo sia antimafiosa, ma che sia preventiva nei confronti del fenomeno mafioso e che attrezzi le comunità a sapere reagire in maniera efficace, prevenendo e gestendo con grande lucidità questo rapporto che è mortale e che va non solo interrotto, che va superato, pensando sì alla possibilità che il mafioso si possa convertire, ma forse dobbiamo ripristinare alcune forme penitenziali del passato, attraverso un percorso di accoglienza, ma attraverso la penitenza, anche che prende una sua configurazione pubblica di fronte alla collettività. Ma la mafia è stata capace di imbrigliare la storia della nostra Sicilia. Più recentemente ha mostrato la sua capacità pervasiva di occupare lo spazio politico, lo spazio economico, lo spazio della partecipazione, gestire voti, orientare, orientare anche consensi e quindi si richiede veramente un'opera di purificazione di tutto lo spazio della convivenza civile, a partire anche dalle stesse comunità cristiane, dalle stesse parrocchie che debbono cominciare a maturare questo processo di autoliberazione con grande libertà, con grande determinazione e su questo l'esempio di padre Puglisi ci anticipa tutti a saper dire di no, a prendere le distanze, a sapere chiarire, a sapere dire pane al pane, sì sì quando c'è da dire sì e no no quando c'è da dire con altrettanta chiarezza, esprimere il nostro rifiuto non solo del singolo peccato di mafia ma della mafia in tutta la sua struttura che è peccato sociale, che è inquinamento della vita politica, compromissione di sviluppo della nostra terra. Grazie